Ciao, oggi video creazioni, vi mostro quello che ho combinato nell'ultimo periodo, volevo registrare un video prima ma purtroppo per via dell'influenza e altre cose non belle diciamo che ne giro soltanto ora, non ho fatto tantissimo appunto per questi motivi, allora vabbè inizio subito con gli orecchini che avete già visto tutte, che ho fatto il tutorial e niente insomma gli orecchini stella alpina, quindi non sto a soffermarmi molto perché comunque le avete già visti, quindi dopo queste ho realizzato questo pendente, l'ho realizzato con questi tre cabochon color crystal di diverse misure, 27, 14 e 12, li ho incastonati con Delica, Roccail sul verde mare e poi ho realizzato questa decorazione molto semplice, un po' asimmetrica con Swarovski da 3 mm, sia all'esterno dei due rivoli più piccolini e invece all'interno li ho usati per chiudere bene il lavoro, è un ciondolo veramente luminosissimo, ho realizzato poi soltanto un piccolo cappietto dove ho inserito un anellino e poi vabbè ci andrà la collana o la catena, non so, poi quello che vorrò poi mettere e niente, quindi questo ciondolino qui, poi ho realizzato quest'altro ciondolo con la tecnica dell'embroderi, è un ciondolo che avevo preso da Sabrina Cristale diverso tempo fa, molto molto bello, il colore è Gordon Shidon, qualcosa del genere, sì, così, quello, e niente, visto che non volevo incastonarlo perché mi piaceva l'idea che brillasse così tanto anche indossato, ho deciso di usare la tecnica dell'embroderi, l'ho incollato, gli ho messo semplicemente un giro di Swarovski da 4 mm e poi ho cucito le parti dell'Alcantara con delle Rokail 11.0, più o meno dello stesso colore del quadrato Swarovski, è un ciondolo anche questo molto, molto, molto luminoso, purtroppo registro il video come sempre alla sera, quindi diciamo che non si vede benissimo, però è un ciondolo che anche messo in una semplice catena, piuttosto che in un semplice cordoncino fa la sua scena, io lo indosserò non troppo lungo in modo che si veda bene il tutto, quindi ho realizzato questo, poi ho realizzato un ciondolo un po' diverso dal solito che ho postato anche su diversi gruppi Facebook a cui sono iscritta ed è il ciondolo Disegual, è un ciondolo carino, mi è piaciuto molto molto realizzarlo, penso che ne farò anche in altri colori, diverso ovviamente, ho soltanto incollato a un pezzo di feltro, un cabochon sarà da 14 mm, era un cabochon che avevo preso diverso tempo fa da pearless, praticamente trasparente ma il dietro è tutto luminoso, tipo perlato, l'ho incastonato appunto al feltro e ho deciso di utilizzare delle daghe che avevo lì, delle bagol, degli svaroschi e delle gocce, dei cipollotti, l'ho fatto appunto così simmetrico perché mi piaceva proprio l'idea di realizzare un ciondolo nuovo, un ciondolo un po' particolare ma piccolo e carino nello stesso tempo, quindi ho realizzato appunto questo ciondolo, adesso ve lo mostro un po' più da vicino, è molto bello e secondo me si può sbizzarrire la nostra fantasia realizzando questi tipi di ciondoli, io anche qui poi ho incollato l'altro feltro e con delle rocaille 11.0 color silver ho sistemato, ho rifinito il tutto il ciondolo facendo anche qua un cappietto che volendo si può anche questo inserire in un cordoncino, adesso io vabbè per ora li ho soltanto realizzati e non ho ancora pensato a come finirli, quindi questo è il ciondolo che vi volevo mostrare, poi altri orecchini in questo caso, sono degli orecchini che anche questi avevo, oppa, ti pareva se non mi cadeva qualcosa, ho postato su facebook, sono degli orecchini re solei, li ho chiamati appunto così, è un orecchino anche qui tutto particolare, l'ho voluto fare apposta così pieno, perché ho realizzato sia per Natale, insomma, diverse creazioni, come si può dire, semplici e questo volevo farlo un po' ricco, ovviamente va a gusti perché ci potrebbe essere la persona che lo trova un po' troppo eccessivo e la persona a cui può piacere, quindi ho deciso di realizzarlo appunto così, è un orecchino che anche questo non si vede in pieno il colore, ma è veramente veramente molto molto luminoso, ho usato questi rivoli da 14 che avevo preso della colorazione nuove particolari, non nuove, che ha pearles e avevo messo poi queste gocce e questi svaroschi sul top azzabì che lo rendono davvero molto molto luminoso, quindi insomma, è un orecchino un po' particolare, però insomma a me è piaciuto molto realizzarlo, poi vi mostro una delle due chiavi che avevo realizzato a Natale per due persone, due care amiche, una mi è tornata indietro perché dovevo accorciare un attimo la catina, quindi questa è una delle due chiavi, questa l'ho realizzata con gli svaroschi, con i rivoli, con l'ovale che avevo preso da Sabrina Cristalli e vi avevo mostrato, dello stesso colore ho messo anche semplicemente degli svaroschi, oppla, ecco, e avevo inserito poi il tutto, avevo bloccato il tutto nella chiave, questa l'ho messa in una catenina, color grigio scuro, nero, insomma, in modo che ci stesse abbastanza bene, l'altro mi è dispiaciuto non potervelo mostrare, ma avevo questo regalo da consegnare, non avevo voglia di realizzare soltanto un video, soltanto per le due chiavi, quindi diciamo che niente, insomma, vi mostro questo e niente, l'altro era esattamente uguale, cambiava soltanto il cabochon, che era quella specie di arancione rosso molto molto bello che avevo appunto preso sempre da Sabrina. Niente ragazzi, questo è tutto, non ho realizzato chissà quante cose, ma purtroppo è andata così, diciamo, questo periodo, quindi niente, io vi lascio e spero di girare presto un nuovissimo video di creazioni, anche perché mi stanno arrivando diversi pacchettini, anzi, oltretutto farò una bella review, che ho fatto diversi acquisti, quindi insomma, magari vi mostro qualcosa. E niente, io vi mando un bacio e vi auguro buona serata, ciao!